Pellaro, la città di Reggio, Pellaro compreso, essendo una città di mare, deve vivere in acque salubri e non in acque inquinate da fogne. Nell'ambito delle attività svolte da questa associazione a tutela del patrimonio paesaggistico e dell'ambiente salubre lo scorso 13 marzo, abbiamo individuato uno scarico fognaro sulla spiaggia di Pellaro, esattamente a ridosso del lungomare Paolo Latella, di fronte allo stadio comunale Giuseppe Attilo Iaria. In vero, da un vetusto canalone in cemento armato, che si diparte dalla base del muro di sostegno del lungomare, volutamente predisposto, con copertura in cemento armato in gran parte demolita, scaricano direttamente nel mare le acque fognarie non depurate. Nel canalone fognario, oltre allo scorre dei liquami, è visibile materiale malodorante, tra cui una copiosa quantità di carte geniche e quant'altro. Vergogna, il caratteristico e inconfondibile odore fognario si percepisce a distanza. Colpisce che lo scarico, tra l'altro ricadente in una località molto frequentata sia d'estate che d'inverno, è passato inosservato, sebbene si tratti di uno scarico la cui origine risale alla notte dei tempi, come è certificata la vetusta, e il degrado della struttura fognare in trattazione. Si chiede di eliminare con immediatezza lo scarico illegale a mare, compreso il canalone di cui sopra secondo legge, e convogliare i liquami fognari all'impianto di depurazione di via Fiumarella alla distante all'omonimo torrente, che dopo averli depurati li trova a smaltire secondo legge, ovvero con adeguata condotta sottomarina, di allontanamento delle acque depurate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 della legge della Regione Calabria, 3 ottobri 1997, numero 10. Vincenzo Crea, referente unico dell'Ancadic e responsabile del comitato spontaneo Torrente Oliveto.